Di Paola e l'incognita cancelleria alla presidenziali manca solo il candidato del Movimento 5 Stelle dopo la candidatura di Claudio Fava e dell'euro parlamentare Chinnici per il PD mancano solo due giorni per presentarsi alle primarie del centro-sinistra sull'isola. Tra i 5 Stelle è già sceso in campo il deputato regionale Nuccio Di Paola ma il nome del sottosegretario Giancarlo Cancelleri potrebbe sempre tornare in gioco. Su di lui però penta il vincolo che vieta il terzo mandato, argomento diventato ancora più sensibile dopo l'addio di Luigi Di Maio. Una deroga alla regola in questo momento non pare essere vista di buon occhio da Giuseppe Conte. Baglieri suggera l'emergenza non può proseguire. Ieri a Lars l'assessore regionale Daniela Baglieri ha fatto il punto della situazione con un'emergenza rifiuti che pesa ancora su Timpazzo. La linea del governo è stata bocciata dalle opposizioni. Sponsorizzazioni Raclea, condanne confermate. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne dell'imprenditore Maurizio Melfa e di una dipendente del gruppo Make. Furono coinvolti nelle indagini sulle sponsorizzazioni gonfiate in favore della compagine locale di Volley. Giardino dell'Acropoli, il degrado, due passi al parco archeologico. La villetta dell'Acropoli non è un bel biglietto da visita per l'area archeologica, sporca e abbandonata da anni, verso ormai in condizioni di degrado elevate, sommersa a rifiuti e erbacce. Il tutto al centro di un'area che nel giro di pochi mesi dovrebbe diventare un centro importante per i flussi turistici della città. Torna la voglia di vacanza. Gelesi pronti a ripartire estate, sinonimo di relax e vacanze, complice anche la fine delle molte restrizioni nate a causa della pandemia, sono davvero in tanti i gelesi che si apprestano a partire. Abbiamo chiesto ai cittadini qual è il loro ideale di vacanza. Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo il nostro notiziario parlando di politica perché mancano ormai meno di 48 ore alla scadenza per la presentazione delle candidature alle primarie del centro-sinistra per le regionali e cosiddette presidenziali. dopo la candidatura di Claudio Fava e dell'euro parlamentare Caterina Chinnici per il Partito Democratico. Adesso manca solo il Movimento 5 Stelle a dover decidere il candidato. Lo dovrà fare entro le prossime 48 ore. In ballo c'è Luigi Sunzeri, parlamentare regionale, c'è anche il gelese Nuccio Di Paola, ma c'è l'incognita Giancarlo Cancelleri. Vediamo. Mancano poco più di 48 ore alla scadenza per la presentazione della candidatura. Il Movimento 5 Stelle oggi rimane l'unico partito della coalizione a non avere ancora ufficializzato un nome per le primarie del centro-sinistra. In ballo c'è la poltrona da candidato governatore alle regionali siciliane di novembre. I grillini temporeggiano, ma c'è da decidere e anche alla svelta. Tra i nomi che circolano c'è sempre quello di Giancarlo Cancelleri. Sul sottosegretario ai trasporti però pende ancora il vincolo che vieta il terzo mandato, argomento diventato ancora più sensibile dopo la scissione di Luigi Di Maio. Una deroga alla regola in questo momento non pare essere buon vista di buon occhio da Giuseppe Conte. Il risultato è che a due giorni dall'ultima data possibile per presentare le candidature manca ancora un nome dei 5 Stelle. Tra i papabili candidati c'è anche il gelese Nuccio Di Paola, che proprio pochi giorni fa ha incontrato gli attivisti in un luogo simbolo per i grillini siciliani, il cortile della Biblioteca Scarabelli a Caltanissetta, lì dove i 5 Stelle si riunirono nel 2012 e decisero di formare la prima lista per le regionali. Poche le indicazioni, ma sembra che tutto si giochi in una corsa a tre proprio tra cancelleri, il parlamentare regionale Luigi Sunseri e lo stesso Di Paola. C'è tempo fino al 30 giugno alle ore 23.59. Noi l'abbiamo sempre detto che stiamo facendo qui in Sicilia qualcosa che non si è mai fatto in altre regioni. Cioè stiamo dando la possibilità ai siciliani, dai 16 anni in su, di poter scegliere entro il 23 luglio, perché poi si voterà il 23 luglio con una registrazione, io la voglio ricordare sul sito www.presidenziali22.it, dai 16 anni in su i cittadini siciliani possono scegliere il loro candidato del campo progressista. Il Movimento 5 Stelle ha delle disponibilità, ci sono persone che hanno dato delle disponibilità, si stanno valutando anche altre figure che possono essere anche esterne al Movimento 5 Stelle, quindi profili alti della società e dico poi sarà Giuseppe Conte insieme a tutto il Movimento 5 Stelle a fare un percorso. Noi siamo un grande movimento, siamo in tanti e quindi è giusto che ci sia un confronto e ci prendiamo queste altre 48 ore per cercare di decidere. Per scegliere il candidato del centro-sinistra si voterà il 23 luglio tramite app N32 Gazebo che saranno allestiti nelle cinque province più popolose della Sicilia. Già pronto pure il sito per iscriversi alla votazione presidenziali22.it, potranno votare i 16 anni e residenti in Sicilia ma fuori sede. Pronti anche due dei tre candidati, in campo già da mesi c'è Claudio Favalo, ormai ex presidente della Commissione Siciliana Antimafia, che sta girando la Sicilia ormai dall'inverno scorso. Da pochissimo invece il Partito Democratico ha ufficializzato la sua scelta ricaduta su Caterina Chinnici, magistrata, figlia di Rocco Chinnici, il giudice che diede vita al pool antimafia a Palermo ucciso nel 1983. La magistrata è considerata in grado di attrarre nella coalizione di centrosinistra anche gli autonomisti che fanno capo al Lombardo, garantendo così alla coalizione un campo più largo. Adesso mancano solo i grillini. Entro 48 ore il candidato arriverà? Assolutamente sì. Entro il 30 giugno alle 23.59. Credo che domani, tra l'altro, sarà un giorno fondamentale. Il giorno fondamentale sarà anche oggi, però dico noi entro il 30 giugno presenteremo il nostro candidato ufficiale all'interno del campo progressista. E permettetemi di dire, se in questo momento tutti stanno aspettando il candidato del Movimento 5 Stelle, vuol dire che in molti sono consapevoli che il Movimento 5 Stelle all'interno del campo progressista è la forza motrice. E torniamo a parlare di rifiuti, di emergenza e di timpazzo, perché ieri all'Ars l'assessore regionale Daniela Baglieri ha fatto il punto sulla situazione con un'emergenza di rifiuti che pesa sempre di più sulla nostra discarica. La linea del governo è stata però bocciata dalle opposizioni particolari in questo servizio. Una razionalizzazione del flusso dei rifiuti e un'accelerazione su nuova impiantistica. La corsa del governo musumeci va a concludersi in vista delle prossime consultazioni di autunno. Anche ieri però l'assessore all'energia Daniela Baglieri si è presentata all'Ars per delineare il bilancio di circa un anno. Da quando ciò ha ottenuto l'incarico sui rifiuti, però l'emergenza continua imperterrita. Per l'assessore le criticità rimangono ancora tante, da quello che prevede la legge 9 del 2010 fino alle SRR che ha spiegato lavorano a macchia di lopardo. Ci sono infatti SRR territoriali che non riescono a rispettare gli obiettivi. La crisi dei rifiuti, l'ennesima, da un anno la sta pagando a caro prezzo, soprattutto la discarica timpazzo, sottoposta alla pressione dei conferimenti ulteriori che arrivano principalmente dall'impianto privato di Sicula Trasporti che serve l'area etnea. Tra quelle falcidiate dai rifiuti in strada, Baglieri è ritornata più volte sul concetto spiegando che l'emergenza non può essere a detrimento dei singoli territori. Sul sito locale è stata piuttosto chiara, ha spiegato che l'emergenza non può procrastinarsi. Ha detto infatti che Congela si è impegnata affinché fosse una situazione transitoria. Al momento però il suo assessorato e il Dipartimento Acqua e Rifiuti continuano a concentrare il surplus proprio a Timpazzo. È stato depennato il limite massimo giornaliero di conferimenti e il gestore della discarica locale, la società in house impianti SRR, si vede costretto a dare disponibilità anche fino a 950 tonnellate al giorno. Si attende l'esito di un ricorso al TAR che però non sarà immediato. Numeri che secondo il presidente della Commissione regionale antimafia Luisa Lantieri pongono il serio pericolo che Timpazzo si saturi. In quel caso i rifiuti dovrebbero essere trasferiti altrove con un aumento netto dei costi. Lantieri è intervenuta anche nel corso del dibattito di ieri. La scorsa settimana con la Commissione aveva sentito in audizione sia il sindaco Lucio Greco sia l'amministratore di impianti SRR, l'ingegnere Giovanna Picone. Per Baglieri invece sull'isola l'attività per la gestione dei rifiuti è frammentata. Ha citato il riferimento all'SR ma anche agli atto in liquidazione, agli aro e ai comuni. Ritiene inoltre che non si possa alimentare una guerra tra territori e va implementata l'autonomia e la prossimità nel ciclo dei rifiuti con un aumento dell'impiantistica. Sui nuovi progetti però ci sono ritardi e territori come quello locale sono ancora più penalizzati. Il sistema efficiente della piattaforma di Timpazzo fa fatica a resistere all'impatto costante del surplus che arriva da altre zone dell'isola. Le opposizioni con in testa PD e Movimento 5 Stelle hanno già archiviato come fallimentare l'esperienza del governo musumeci a partire dalla gestione dei rifiuti. Anche ieri nel corso della dibattito in aula, gli esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle hanno nettamente contestato la linea del governo regionale. Giornata di mobilitazione oggi per i lavoratori dei consorsi di bonifica che terranno presidi a partire dalle 10 davanti a tutte le prefetture dell'isola. La protesta è stata organizzata dalla Flai CGL, dalla Fai Cisle e dalla Filbi Will Regionali che denunciano gravi ritardi fino a 4 mesi che si registrano nell'erogazione degli stipendi. Da tempo i lavoratori locali segnalano le troppe disfunzioni di un ente che non riesce più a sostenere le esigenze degli operatori agricoli del territorio. I ritardi nei pagamenti poi sono un ulteriore danno. Mancano all'appello 18 milioni di euro per i lavoratori a tempo indeterminato, scrivono in una nota i sindacati, e 4 milioni e mezzo per il tempo determinato. Siamo in attesa di un provvedimento dell'Ars per attingere ai 211 milioni che lo Stato ha autorizzato a spendere. I sindacati però temono anche ulteriori ritardi determinati al passaggio ai consorsi dal Dipartimento Sviluppo Rurale al Dipartimento Agricoltura. Parliamo di cronaca giudiziaria. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne dell'imprenditore Maurizio Melfa di una dipendente del gruppo Meic. Furono coinvolti, secondo i magistrati, nell'indagine sulle sponsorizzazioni gonfiate in favore della compagine locale di Volley. Vediamo. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne gemesse sia dal gruppo del Tribunale di Gela che dalla Corte d'Appello di Caltanissetta. Un anno e due mesi di reclusione per l'imprenditore Maurizio Melfa e un anno per Veronica Acauchi, dipendente del gruppo Meic. Sono state pubblicate le motivazioni. Entrambi, insieme ad altri coinvolti attualmente a giudizio, furono interessati da un'inchiesta che si concentrò su un ampio giro di sponsorizzazioni che gli investigatori ritenero gonfiate allo scopo di aggirare il fisco. Gli approfondimenti si concentrarono sulla società sportiva Heraclea Volley, della quale l'azienda dell'imprenditore fu tra i principali sponsor. Per i militari della Guardia di Finanza, che operarono coordinati dai PM della Procura, quelle sponsorizzazioni si rivelarono sovrabbondanti, almeno a livello di cifre. Un elemento in più per condurre accertamenti furono individuate operazioni considerate irregolari. Le somme, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero state trasferite alla società sportiva e sistematicamente riacquisite. Emersero operazioni indicate come fittizie. I giudici di Cassazione non hanno accolto i ricorsi presentati dai difensori, gli avvocati Giacomo Ventura e Giuseppe Fevola. Per i legali invece quelle operazioni che riguardano gli anni di imposta dal 2010 fino al 2014 furono assolutamente irregolari. Vere sponsorizzazioni in favore della società di Volley, così come riportato anche dai loghi make sulle maglie della formazione. Secondo questa linea non ci sarebbe stata un'anomala sponsorizzazione, né ci sarebbe stata una sproporzione, visto che le somme per la compagine di Volley si fermavano ad una percentuale inferiore a quella della media nazionale, 2,16% a fronte del 2,2%. I difensori anche con i giudici romani hanno insistito sul fatto che non possano sussistere prestazioni relativamente inesistenti, come invece delineato dalla Corte d'Appello Nissena. I giudici di Cassazione invece hanno ribadito quelle conclusioni già poste dalla Corte d'Appello. Ritengono infatti che le operazioni non furono regolari. Secondo i giudici di Cassazione infatti sulla prova di commissione dei reati la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata. Inoltre i magistrati capitolini confermano che ci sarebbero stati costanti prelievi quasi in concomitanza dei versamenti per le sponsorizzazioni. Per gli investigatori la società sportiva sarebbe servita anche ad altri imprenditori al solo fine di aggirare gli obblighi del fisco attraverso la copertura delle sponsorizzazioni. Anche la Procura Generale ha concluso per la conferma della sentenza. Con l'addizione della Cassazione le condanne diventano definitive. Sia Melfa che Cauchi optarono per il rito abbreviato. E diamo un'occhiata come di consueto al report quotiano dell'ASPO sull'emergenza pandemia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi covid in città sono 18 a fronte di 29 guariti. In totale i positivi sono 520. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria. ASPO comunica invece il decesso di un paziente di Caltanissetta positivo al covid. E il problema dei rifiuti e del degrado si fa sentire forte anche qui in città. Per esempio il giardino dell'Acropoli, la villetta dell'Acropoli, non è sicuramente un bel biglietto da visita per l'intera area archeologica. Sporca e abbandonata da anni verso ormai in condizioni di degrado elevate, sommersa da rifiuti ed erbacce. Il tutto al centro di un'area che nel giro di pochi mesi dovrebbe diventare un centro importante per i flussi turistici della città. Vediamo. È una delle tante aree verdi che potenzialmente potrebbero essere un'attrattiva per cittadini e turisti ma che invece sono abbandonate al degrado. Questa in particolare collocate in un'area strategica per un eventuale percorso turistico che va dal museo archeologico all'Acropoli passando per il costruendo museo della nave di Bosco Littorio. Eppure la villetta dell'Acropoli situata proprio di fronte al museo e confinante con una scuola è completamente abbandonata a se stessa. Sporcizie ovunque, già all'ingresso della struttura, con rifiuti di ogni tipo e addirittura una big bag ricolma di rifiuti speciali a pochi metri dal cancello. All'interno poi si trova di tutto. Erba alta, incolta, alberi non potati e buona parte dell'illuminazione pubblica distrutta. Un'area priva di manutenzione e ricettacolo di animali di ogni genere. La villetta dell'Acropoli oggi non è sicuramente un bel biglietto da visita per l'area archeologica. Sporca e abbandonata ha ricevuto attenzione finora solo quando l'associazione ex detenuti coordinata da Rocco Bassora decise di ripulirla da ogni tipo di rifiuto esistente. Sono passati quasi cinque anni da allora ma la situazione è tornata identica al passato. Nel 2018 un privato chiese di poter installare un chiosco al suo interno per creare una piccola area di ristoro. L'imprenditore si sarebbe occupato di bonificare e mantenere pulita l'area e addirittura di ripristinare l'impianto di pubblica illuminazione. Quel progetto però rimase in uno dei cassetti palazzo di città e oggi la villetta dell'Acropoli nonostante qualche timido tentativo di intervento sul verde rimane ancora abbandonata. La grande vasca di cemento al suo interno che avrebbe dovuto ospitare una fontana con giochi di luce colma di rifiuti e materiale inerte mentre tutte le aree verdi a ridosso della strada sono diventate il bersaglio preferito dei lanciatori di sacchetti dalle auto. Al di là del parapetto si trova praticamente di tutto anche mobili e vecchi frigoriferi abbandonati lì chissà da quanto tempo. Il tutto al centro di un'area che nel giro di pochi mesi dovrebbe diventare un centro importante per i flussi turistici della città anche se nessuno ad oggi sembra accorgersene. Ma se da un lato c'è chi sporca dall'altro c'è anche chi pulisce. L'altra faccia è la medaglia lungo diversi tratti di costa ma anche all'interno della villa comunale. Marco Diddio, un operatore sociale della città, da giorni è impegnato in una sua personale spontanea opera di pulizia. Nell'arco di pochi giorni ha raccolto diversi chili di plastica e di rifiuti che altrimenti sarebbero rimasti spiagge o luoghi destinati alla collettività come appunto la villa comunale. Una scelta per la città e per un modello diverso di condivisione di ciò che è di tutti ma che troppo spesso viene offeso e sporcato. E parliamo di Gelas perché è finalmente arrivato il sì al bilancio. È stato approvato ieri il bilancio della partecipata comunale. Il terzo inutile, l'amministratore Francesco Trenito intanto va verso la riconferma. Vediamo. È stato approvato il bilancio 2021 di Gelas. La partecipata del comune era atteso da alcune settimane. Ieri in tarda mattinata è arrivato il risponso dell'assemblea presieduta al manager Francesco Trenito. È il terzo bilancio consuntivo inutile. Trenito è infatti alla guida della multiservizi dal 2019 quando è stato scelto dal sindaco Lucio Greco. La decisione di affidargli l'incarico fu assunta per cercare di ripianare i conti non semplici della società in house per la quale era stata ipotizzata anche la strada della messa in liquidazione. Non mancano ancora i punti da chiarire come le nuove assunzioni. In settimana la sisecifica dovrebbe esprimersi anche sul nuovo contratto della partecipata che prevede una durata triennale. Non è da escludere però che il punto possa slittare il sindaco Lucio Greco positivo al covid in isolamento. Ieri non ha potuto prendere parte alla riunione. L'amministrazione comunale è stata rappresentata al vice sindaco Terenziano Di Stefano. L'approvazione del bilancio 2021 di fatto rappresenta l'ultima tappa del lavoro del manager Terenito che però dovrebbe essere riconfermato. Il condizionale è d'obbligo ma la scelta per la prosecuzione sembra già fatta. Si dovrà procedere anche con il rinnovo del collegio sindacale. Il sindaco Lucio Greco ha sempre riposto fiducia nell'operato di Terenito e del gruppo di lavoro che lo supporta. Il nuovo contratto della società in house dovrebbe inoltre segnalare l'avvio di una sorta di nuova fase scandita dalla possibilità di una programmazione su tre anni superando prologue e rinnovi a scadenza. chiaramente anche sui servizi bisognerà implementare gli interventi ma molto ruota intorno al personale del quale Terenito ha più volte chiesto un incremento. I punti che riguardano la sua riconferma e il rinnovo del collegio sindacale saranno successivamente valutati. È stato deciso così anche per avere la presenza del sindaco che causa covid ieri non ha potuto partecipare alla riunione. Il bilancio è stato comunque approvato così da averlo prima che si tratti il contratto in consiglio comunale. Così ha riferito il manager Terenito al termine dell'incontro proprio di ieri. Estate sinonimo di relax e di vacanze complice anche la fine delle molte restrizioni nate a causa della pandemia sono davvero in tanti i gelesi che si apprestano a partire. Abbiamo chiesto ai cittadini qual è il loro ideale di vacanza. Vediamo cosa ci hanno risposto. Estate è sinonimo di vacanze e relax complice anche la fine delle molte restrizioni nate a causa della pandemia sono davvero in tanti i gelesi che si apprestano a partire. Diciamo che la gente sta esprimendo una voglia di viaggiare che è quella che insomma riscontravamo due o tre anni fa prima della pandemia e quindi noi siamo pronti lì a soddisfare tutte le esigenze dei clienti e la loro voglia di viaggiare, di conoscere e di girare il mondo. Sostanzialmente quali sono le differenze per poter viaggiare adesso? Ma diciamo che stiamo andando incontro sempre a una libertà di viaggio che è quasi uguale a prima. Non ci sono le restrizioni di una volta, cioè i tamponi o le autorizzazioni. Ancora qualche paese sì, però diciamo che per esempio in Europa non ci vuole quasi più niente. Viaggiare affidandosi a un'agenzia di viaggio significa viaggiare con determinati requisiti. Molto spesso chi viaggia per conto proprio si rivolge a internet senza conoscere le conseguenze di un eventuale viaggio andato male, di un albergo non trovato, di un'assicurazione non avuta e roba varia. Viaggiare con l'agenzia di viaggi significa avere tutte quelle informazioni che magari è difficile reperire individualmente. Poi in questo periodo specialmente dove le restrizioni, le regole cambiano ogni 10 minuti mi sembra anche doveroso. Ormai le crociere, il viaggio, il soggiorno balneare è diventato un bene di massa per cui chiunque si parte va in vacanza insomma. Quindi voglio dire evidentemente dopo questa botta che c'è stata del Covid c'è la voglia proprio di ripartire. Il popolo dei vacanzieri è molto variegato. C'è chi prenota con largo anticipo e chi invece si riduce all'ultimo momento approfittando delle offerte last minute. Chi preferisce il fai da te e chi invece si affida alle agenzie. Chi predilige la montagna e chi nonostante viva gela cercamete balneari. Chi vuole solo relax e chi preferisce avventurarsi alla scoperta di posti nuovi. Insomma chi più ne ha più ne metta. Per questo motivo abbiamo chiesto ai cittadini qual è il loro ideale di vacanza. Preferisce il mare o la montagna? La montagna mi porta una bella tranquillità. Noi abbiamo il mare e abbiamo questa fortuna fin quando possiamo goderlo. Adesso è più facile viaggiare. Cosa ne pensa? Ma è anche giusto per quelli che lavorano, hai capito? Qual è il suo ideale di vacanza? Il mio ideale di vacanza? Stare al mare rilassato e basta. Io vengo di fuori, che mi trovo bene a Gela diciamo. Io sono di Gela però ho tanto tempo che sono fuori, vengo tutti gli anni, mi trovo bene. Per quanto riguarda gli spostamenti preferisce il fai da te prendendo i biglietti online o si affida ad un'agenzia? Eh con l'agenzia è meglio, cioè vado più sicuro. Mare, spiaggia, più che sufficiente. E' una bella giornata. Relax, relax è l'aspirazione di una buona vacanza. Poi quello che viene è tutto ben accettato. Dovendo fare una vacanza lei preferisce affidarsi all'agenzia o al fai da te? Beh in agenzia in effetti così bene o male, magari sei più organizzata e tutto. Qual è il suo ideale di vacanza? Preferisce scoprire nuove città oppure preferisce rilassarsi? Sia uno che l'altro, è bello uno e bello l'altro. E dipende come ti trovi in quel momento che vai in vacanza. Una notizia di sport prima di chiudere. Il tenso statico di Macchitella dove l'Ecoplast Volley Gel ha giocato le partite casalinghe di questa stagione verrà intitolato a coach Alessandro Urso, morto di cancro nel settembre 2017 all'età di 57 anni. La festa di premiazione sarà mercoledì 29 alle 19. Alessandro Urso è un pezzo di storia della pallavolo gelese, amava i ragazzini e soprattutto amava formarli nello sport della pallavolo. A lui Nuccio in Corvaia, dirigente dell'Ecoplast, aveva anche dedicato la promozione della passata stagione. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Siamo in chiusura. Naturalmente, se volete approfondire tutte le nostre notizie, le trovate sul sito www.quotidianoigela.it. Se invece volete rivedere o condividere tutti i nostri servizi, li trovate sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram e YouTube. Per il momento è tutto. Adesso vi saluto e vi lascio come di consueto alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.